Presidente, non è arrivata la vittoria, però per almeno mezz'ora un grande Giulianova, anche un gran bel pubblico. Abbiamo assistito a una bellissima giornata di calcio a Giulianova, come penso non se ne vedevano da tanti anni. Abbiamo affrontato una buona squadra, abbiamo giocato questa partita con assenze importanti, penso a Di Paolo, Torelli, Balducci, quindi avevamo diversi titolari che purtroppo erano infortunati o Torelli che è squalificato, però l'abbiamo affrontato a viso aperto, abbiamo subito un calcio di rigore, nel primo tempo siamo stati un pochino contratti, però devo dire che come la squadra è andata sotto ha fatto vedere quella voglia che ha di arrivare fino in fondo e quindi ha messo in campo tutto quello che aveva e abbiamo fatto un secondo tempo entusiasmante. Se anche in campionato si vedesse quella squadra del secondo tempo e quel pubblico, probabilmente la salvezza sarebbe ancora più alla portata. No, ma adesso da domenica il pubblico del Statenino lo vedrà anche in campionato, perché ieri ho avuto un colloquio con i giocatori più grandi della squadra, siamo stati insieme un paio d'ore, quindi ho fatto capire loro qual è la strada da percorrere, ma sono sicuro che ci tireremo fuori da quella posizione, perché abbiamo una squadra fatta da uomini veri, da bravi ragazzi e da ragazzi soprattutto che per questa maglia hanno dato in questi due anni e mezzo tantissimo, quindi non hanno la minima voglia di andare nella zona play-out, quindi già da domenica, dico che Giulianova farà una partita ancora migliore di questa, perché vogliamo salvarci il prima possibile e preparare al meglio la partita di ritorno, perché a Messina sarà una battaglia, dobbiamo far golle, lo sappiamo, e quindi andremo combattivi come sempre.